Ciao a tutti e buona domenica in questa domenica speciale dove è appena iniziato l'evento gratuito e online Conquista l'italiano che organizzo insieme ad Alberto di Italiano Automatico. Io sono già qui nella pagina esclusiva dell'evento. Abbiamo da poco pubblicato il primo video della serie di video che pubblicheremo questa settimana. Quindi se entrate è già disponibile. Questi sono video nuovi con contenuto inedito, estremamente utile e valido per tutti voi che volete imparare a parlare in italiano con facilità. Ok? Io e Alberto ci abbiamo messo davvero molta cura, molta attenzione nell'elaborazione di questi video. E attenzione, non è solo teoria, non sono solo consigli, tecniche, strategie. Trovate anche molta e molta pratica. Infatti sotto ogni video, come vedete qui, sotto il primo video ad esempio, trovate un contenuto in audio e pdf, quindi con testo e traduzione da ascoltare e da studiare, da analizzare. Ok? Sono audio con diverse velocità, con diverse voci, sono pdf con testo in italiano, traduzione in portoghese. Quindi un materiale per mettere in pratica, por, a mon amazza, come si dice, mettere in pratica tutto quello che vi diremo durante la settimana. E sotto ogni video trovate un materiale diverso, ok? Quindi nel corso della settimana, il 28 e poi il 30, quando pubblicheremo gli altri video, troverete nuovi materiali da ascoltare per sviluppare il vostro apprendimento della lingua. E in particolare sotto il video 3, che è quello che pubblicheremo il 30 maggio, troverete anche un link per visualizzare delle video lezioni che sono state prese dal nostro corso Conquista l'italiano. Abbiamo disponibilizzato per questa settimana delle lezioni, video lezioni gratuite di analisi della lingua, ok? Quindi capirete un po' quella visione di grammatica come supporto all'apprendimento. Quindi mi raccomando, davvero un materiale estremamente valido, tantissimo contenuto per sviluppare il vostro italiano questa settimana. Quindi approfittatene, ok? Guardate i video, scaricate i materiali, gli audio, i testi, le traduzioni, guardate le video lezioni di analisi e soprattutto, ragazzi, lasciateci un messaggio qui sotto che è nella sezione dei commenti. Io e Alberto siamo, io da questa parte, Alberto dall'altra parte dell'oceano in Italia, siamo qui pronti a rispondervi, ok? Vogliamo conoscere la vostra storia, la vostra esperienza e cosa pensate di quello che vi diremo durante la settimana. Quindi vi aspettiamo, ovviamente per partecipare, se non siete ancora iscritti, fatelo subito, cliccate, vi lascio il link qui in alto, mettete la vostra e-mail, confermate l'e-mail e sarete direzionati immediatamente su questa pagina, che è la pagina esclusiva dell'evento. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo lì, mi raccomando, sfruttate al meglio questa settimana. Ciao, buona domenica! Grazie per la visione!